I problemi più comuni e i costi di riparazione della Citroen C2 VTS. Il collettore di aspirazione tende ad allentarsi. In officina impiegheranno circa un'ora per il serraggio per un costo di circa 50 euro. Il cambio è molto delicato e molto frequente l'usura e la rottura dei tiranti della leva. Il ricambio originale costa di 200 e 250 euro. Sono necessarie 4 ore di manodopera per altre 200 euro. I supporti degli ammortizzatori anteriori tendono a consumarsi molto rapidamente. costano circa 50 euro l'uno, ci vuole 2 ore di manodopera per circa 100 euro. Sempre parlando di cambio, spesso e volentieri si rompe lui, il sincronizzatore della seconda e della terza marcia. Il ricambio in sé costa 50 euro, ma l'apertura, chiusura e verifica del blocco cambio richiede circa 7 ore di tempo per 350 euro di manodopera. Solo sull'Euro 4 tende a rompersi la farfalla elettronica. Il ricambio originale costa circa 250 euro, ci vuole un'ora di manodopera per altre 50 euro. Ringraziamo Trombini Engineering come al solito. Se avete una C2 VTS sapete a chi rivolgervi. In descrizione come al solito trovate tutti i dettagli dell'officina e i dettagli del video. E come al solito seguici per altri contenuti come questo.